Una tangente da 3.000 euro per non bloccare ad una impresa la liquidazione delle fatture per il servizio di smaltimento di rifiuti speciali. In particolare a Mianto, da parte del comune di Campobello di Licata, una mazzetta da consegnare alla piazzola di sosta di fronte alla ditta Omnia SRL incontrata a Bugiades, a Licata. Con i carabinieri a filmare l'intera scena, pronti ad intervenire, è stato incastrato così Francesco Gioacchino Lamedola, 48 anni, nativo di Canigatti, residente a Licata e dipendente del comune di Campobello di Licata, arrestato dai carabinieri del reparto operativo di Agrigento, coordinati dal colonnello Rodrigo Micucci e del capitano Fabio Armau. Insieme alla Mendola, difeso dall'avvocato Angelo Balsamo, è stato fermato un altro dipendente comunale, Giuseppe Nigro, 48 anni, dirigente del settore ambiente, difeso dall'avvocato Salvatore Manganello, raggiunto da un provvedimento di fermo perché all'appuntamento per intascare i soldi non era presente, ma è accusato di concussione in concorso. L'inchiesta, coordinata dal Pubblico Ministero Carlo V, nasce dalla segnalazione dell'impresa che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali, che ha denunciato di avere ricevuto dalla Mendola la richiesta ad una tangente per un importo di 3.000 euro, se non voleva vedersi bloccare i pagamenti per l'appalto che stava svolgendo per conto dell'ente. La Mendola, subito dopo l'arresto, avrebbe confessato, tirando in ballo, il dirigente del settore ambiente, dicendo che la tangente l'avrebbe dovuta spartire con lui. I carabinieri hanno perquisito le abitazioni di la Mendola e Nigro e i loro uffici in via Trieste, sequestrato computer e carte, ma soprattutto è stata acquisita la documentazione relativa alla convenzione tra il Comune di Campobello e la Omnia SRL, che si occupa di smaltimento rifiuti anche speciali. L'inchiesta è partita da una denuncia dei due imprenditori titolari della Omnia, Valerio Peritore e Angelo Incorvaia, che una volta avvicinati dalla Mendola, secondo l'accusa, con la richiesta della tangente, non hanno esitato a contattare i carabinieri di Agrigento, che hanno teso una trappola e dipendente comunale per incastrarlo con i soldi in mano. La Mendola si sarebbe presentato all'appuntamento proprio davanti all'impresa, con i due imprenditori, ed avrebbe preso una busta con i soldi. A questo punto i militari dell'arma sono entrati in azione e lo hanno ammanettato. Aveva ancora in mano le banconote, che erano state contrassegnate. Lui ha tentato di giustificarsi, ma i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato. In alcune intercettazioni che i carabinieri hanno registrato nei giorni precedenti, pare che la Mendola tirasse in ballo il suo capo ufficio, con il quale sembrava esserci un accordo per la spartizione della bustarella. I particolari dell'intera operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è svolta alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le interviste al Procuratore Luigi Patronaggio e al PM Carlo Cinque. Quello che importa non è tanto i 3.000 euro della mazzetta. Quello che importa è mettere l'opinione pubblica al corrente che ancora c'è gente che prende la mazzetta in mano, che si fa consegnare i soldi nel borsello con le banconote per fare degli atti che sono illeciti. Atti invece che dovrebbero essere erogati alla collettività, agli utenti, in modo del tutto gratuito e disinteressato, perché è un loro diritto avere questi atti. L'operazione nasce in seguito alla denuncia degli amministratori della Omnia SRL che si sono sentiti vessati dall'Amendola, funzionario in servizio presso il Comune di Campobello di Licata, che con la sua quasi costante presenza presso i locali della Omnia e con frasi allusive ha fatto intendere agli amministratori della società che aveva una convenzione con il Comune di Campobello di Licata per lo smaltimento dei rifiuti e ha fatto capire che se non fosse stata pagata una tangente l'Omnia non avrebbe più lavorato con il Comune di Campobello di Licata ne avrebbe ottenuto il pagamento delle fatture residue che, dispettanza dell'Omnia per lavori regolarmente eseguiti. A quel punto, con i carabinieri, abbiamo deciso di attivare delle intercettazioni tra presenti d'urgenza con contestuale ripresa video e siamo riusciti a riprendere in diretta la consegna del denaro di una tangente di 3.000 euro consegnata da Peritore a l'Amendola. L'Amendola veniva poi fermato fuori il piazzale della Omnia dai carabinieri sottoposto a perquisizione e trovato in possesso delle banconote. Da lì immediatamente l'Amendola è stato da me sentito ha confermato sostanzialmente il coinvolgimento seppur in maniera parziale ma comunque ha confermato il coinvolgimento di Nigro Giuseppe dicendo che la tangente probabilmente sarebbe stata spartita tra i due successivamente abbiamo optato per il fermo di iniziato di delitto nei confronti di Nigro Giuseppe anche lui ieri è stato sentito immediatamente dopo il fermo sostanzialmente lui ha allontanato da sé la responsabilità dicendo che l'iniziativa era ad esclusivo appannaggio di l'Amendola. Questa è l'operazione, ora aspettiamo le valutazioni che farà il giudice. Un appalto che inizia con 8.000 euro dicevate in conferenza stampa e arriva fino a 130.000 euro è un po' anomalo anche questo, no? In realtà si arriva a 100.000 euro perché era necessario effettuare una bonifica su un terreno su cui era stato depositato amianto terreno di proprietà comunale a seguito di alcune denunce da parte di cittadini questo amianto da parte di ignoti era stato poi sminuzzato e mescolato al terreno c'era pericolo chiaramente di inquinamento del terreno stesso e vicino al terreno c'è una falda acquifera per cui il comune ha deciso comunque di procedere alla bonifica chiaramente i costi poi sono aumentati perché bisognava rimuovere il terreno mischiato all'amianto per questo si passa da 8.000 euro a 100.000 euro